Due date per dei provvedimenti particolarmente attesi nel Bassanese. La prima è il 4 agosto, sabato, quando a riaprire i battenti sarà l'impianto natatorio di Mussolente, dopo che è venuto alla luce che dal 2002 mancava l'idoneità con il certificato del collaudo statico complessivo dell'impianto e l'inagibilità delle gradinate. 360 mila euro il costo per la progettazione e la direzione dei lavori. 310 mila invece sono quelli spesi per la messa in sicurezza e l'adeguamento iniziato a maggio. Il 20 agosto ad aprire saranno anche le piscine di Marostica ritinteggiate, pulite, stuccate e con le ceramiche compromesse risistemate. L'info point per conoscere tutti i dettagli della gestione targata Sport Management è già aperto.